Edel surf, la prima grande rivoluzione per la parità salariale negli sport, la World Surf League, l'organizzazione internazionale che governa il surf professionistico, ha infatti annunciato che a partire dal 2019 assegnerà lo stesso premio in denaro agli uomini e alle donne. Abbiamo fatto molte cose a questo riguardo, abbiamo aumentato il numero delle donne, ha aumentato loro la montare dei premi, abbiamo investito, quindi per arrivare a questo punto abbiamo compiuto un viaggio negli ultimi anni. Una strategia a lungo termine, insomma, secondo l'amministratore delegato della World Surf League, che è soltanto la prima parte del lungo viaggio. Sono davvero fiero che il mondo dello sport stia facendo tutto ciò fungendo così sperabilmente da esempio per gli altri sport. Un giorno potremmo dire che il merito è stato proprio del surf.